In questa scuola si danno delle occasioni, occasioni di crescita, crescita culturale, crescita sociale e questo secondo me è un valore che hanno pochissime istituzioni, soprattutto nell'ambito della musica, tutte centrate ad addestrare alla musica e non ad educare la musica, sono due cose molto diverse. Quindi noi qui non state guardando un saggio, state guardando un'operazione molto più ampia, molto più importante, con una ricaduta estremamente importante, sotto tantissimi profili e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti all'enorme mole di lavoro che ci dirà un'operazione come questa, un'opera di teatro musicale. Pappanella, ma nemmeno, che la scegliamo? E... Radio! Ma no, Radio! Pappanella, mappanella! Ma no, il quale è della scuola! Sono lecce da guardare, ma sono i ragazzi! Ma cosa state facendo? Perché non scegliete la sceglia? Si, ma scostatemi, perché? Perché vi potrà. Perché? Perché arriva l'autobus! Aeeeeeeeeee! Grazie a tutti. 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 I protagonisti, in questo senso, io volevo dire, di tutta l'opera, perché le prendono, le spostano, si vengono qui, l'ultimo momento finale. Sono loro che creano un po' la magia della storia, che fanno riservi di scena, fanno i personaggi. Questa scelta di scenografia, che è un mix, avete visto, tra degli elementi semplici e artigianali e la tecnologia. È una scelta che abbiamo fatto anche per poter portare la bulla di sapone, lo spettacolo, ad esempio nelle scuole, ovunque in luoghi non convenzionali, in cui con queste scenografie possiamo adattarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.